Il governo non c'entra niente con la vicenda della parlamentarizzazione dell'iter che riguarda Berlusconi. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio che il voto del Parlamento non anticipasse la conclusione dell'iter giudiziario. Questo perché riteniamo che un conto sia il giudizio parlamentare e un conto sia il giudizio della magistratura. Berlusconi l'ha condannato alla magistratura, non il Parlamento. Quindi non c'è un conflitto tra il governo e questo. Il governo va avanti per l'Italia e per gli italiani.